Buonasera, sono il presidente dell'associazione L'Arco Baleno di Leporano, mi chiamo Lina Tartariello e ci piace portare avanti queste nostre tradizioni e quindi questo è il quarto anno che presentiamo Pizzica e Pettole. È un connubio perfetto, quindi la gente vedo che si diverte, abbiamo riempito la piazza ed è un grande onore fare questa bellissima manifestazione naturalmente con la collaborazione dell'amministrazione comunale, quindi ringrazio l'avvocato Angelo D'Abramo e il vice sindaco l'assessore dottoressa Loiolanda Lotta. Che dire, siamo emozionati perché è una serata bellissima e quindi vi auguro altrettanto di passare questa bella serata, io non vedo l'ora che iniziano per poter andare a ballare e naturalmente se venite assaggiate le nostre pettole all'Arco Baleno. Grazie, buon divertimento. Grazie, buon divertimento.